Per te che hai un bar, un ristorante, un'attività con tavoli e sedie all'aperto, RS è la soluzione più conveniente per rinnovare l'aspetto originale della plastica di tavoli e sedie e risparmiare, perché una sola applicazione di RS ti durerà tutta una stagione. Veloce, conveniente e rapido, la possibilità di riceverlo presso la tua attività e senza la necessità e il disagio di dover smaltire tavoli e sedie vecchi. Subito idrorepellente dopo l'applicazione, sarà completamente asciutto al tatto e terminato l'assorbimento, adatto anche a rinnovare la plastica, gli accessori, tavoli, sedie e molto altro da giardino. Rinnovare è conveniente solo con RS, rispetto a tutti gli altri prodotti e anche alla sostituzione, perché anche se sostituissi spendendo molto di più, alla fine di una stagione tavoli e sedie nuove sarebbero rovinati. È molto più comodo che andare a comprare tavoli e sedie e arredamento nuovi e senza dover smaltire quelli vecchi. Con mezzo litro di RS puoi rinnovare circa 10 metri quadrati di superficie piana di plastica e un'applicazione ti dura per tutta una stagione. RS non contiene corrosivi, siliconi e cere. Quando decade non lascia residui bianchi di silicone e di paraffina e ti permette di rinnovare l'applicazione e di risparmiare ancora. RS è un prodotto innovativo, brevetto italiano, prodotto in Italia in esclusiva da Black Traction. Lo puoi acquistare sul sito Black Traction e ricevere comodamente a casa, oppure guardare nella pagina collaborazioni del sito se c'è un rivenditore vicino a te. Non lo trovi su piattaforme come Amazon. Non lo trovi su piattaforme come Amazon. Grazie a tutti.